Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. In questo video vi voglio parlare della partita del Napoli contro il Milan che si è giocata ieri sera. Devo dire che il Milan, come al solito, ha giocato bene perché ha meritato di vincere e il Napoli non c'era neanche in campo, sembrava. Ho visto un Napoli in difficoltà, un Napoli che non è riuscito a creare le occasioni che sarebbero state per fare gol. Invece ho visto poi un Milan che con l'occasione che ha fatto è riuscito a segnare. Ho visto che il Milan ha fatto 3-4 tiri in porta e ha segnato. Il Napoli invece ha fatto qualche tiro e continuava a parare Magnan. Magnan continuava a parare. Se l'Inter deve fare gol, deve tirare in porta 500 volte. Invece le giocatori del Milan se tirano in porta con 3-4 o 5 tiri, segnano. Invece l'Inter per segnare deve fare 3-4 tiri, perché non segniamo, non segniamo. Anche contro la Fiorentina andiamo a perdere. Anche contro la Fiorentina. Adesso i milanisti diranno avete perso contro la Fiorentina e noi abbiamo vinto contro il Napoli. Intanto non è ancora finita, non è ancora finita per lo scudetto, perché non si sono ancora. E poi voi siete comunque sotto in classifica. Mi dispiace vedere una squadra dove il Napoli, anche se ha perso, diciamo che è la mia seconda squadra, perché io sono interista, però diciamo che anche se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, preferirei che lo vincesse il Napoli. Però insomma mi prude, mi prude un po' la sconfitta di ieri, mi prude un pochino la sconfitta di ieri, perché non me ne aspettavo che andava a vincere il Milan 4-0. Il Napoli si vede che era impreparato, era impreparato, non è riuscito, ripeto, a creare le occasioni giuste per segnare. Il Milan invece è stato molto più decisivo, ha giocato meglio, perché si è visto in campo ieri. Ha creato molte occasioni e si è visto in campo ha dimostrato di vincere. Il Napoli mi è dispiaciuto vedere una squadra che va a perdere soprattutto in casa 4-0. Cioè se perdevi 1-0, vabbè, ma 4-0, 4-0 in casa, mi sembra un po' tantino, un po' tantino mi sembra. Perché vuol dire che avete giocato male, che avete giocato male. Vabbè, per il Napoli, vabbè, ci può stare che avete perso. Anche perché ci sono altre partite, dovete giocare con Lecce, magari riuscite ancora a prendere qualche punto. Ma quello che mi preoccupa di più è l'Inter, è l'Inter. Da seconda va a quarta. Anzi, non va, è quarta. Perché adesso stiamo facendo schifo noi. Non siamo neanche riusciti a battere la Fiorentina. Neanche la Fiorentina siamo riusciti a battere. Ma non è possibile. Ma la prossima, se non mi sbaglio domani, contro la Juventus. Se giochiamo contro la Fiorentina, non vinciamo più. Non vinciamo più. Ci mandano a casa ancora, ci mandano a casa. Ci mandano a casa ancora se giochiamo come contro la Fiorentina. Non riusciamo più a vincere le partite. Non riusciamo più a vincere le partite. Non lo so cosa è successo all'Inter. Non lo so. Stiamo calando, calando, calando. Ma noi dobbiamo tirare fuori. Dobbiamo tirare fuori la grinta giusta per segnare. Perché non tiriamo fuori la grinta giusta? Il Napoli, anche se ha perso, tutte le altre partite ha giocato bene. Può capitare che qualche volta la perde o la pareggia. Perché non è che tutte le squadre vincono le partite. Però, insomma, il Napoli non ha giocato tanto bene ieri. Perché poteva essere più decisivo, ma soprattutto poteva anche cercare di tirare più in porta. Perché ho visto un tiro di, se non mi sbaglio, Gelischi, che ha tirato un bel tiro. Però, insomma, Magnan li parava tutti, li parava tutti. Tutti li parava Magnan. Io dico che il Milan, se non avesse parato Magnan, il Milan non avrebbe vinto. Il Milan non avrebbe vinto. Però, non si sa. E poi, ho visto Barascheglia, che secondo me è l'unico, ma dico l'unico, che si può salvare. Ma, però, diciamo che secondo me poteva anche fare meglio. Però ho visto un contropiede che mi è piaciuto. Mi è piaciuto che ha fatto. Perché, diciamo che è molto, molto veloce. Ma, però, Leao ha tanta, tanta classe. E in campo fa sempre la differenza. Cioè, non lo ferma mai nessuno. Per cui, se dovessi scegliere tra Barascheglia e Leao, io direi Leao. Ma anche se Barascheglia, per me è un fuoriclasse. È un fuoriclasse perché piace moltissimo il giocatore con tanta classe. Però, c'è da dire che Leao è un fenomeno. Però, Barascheglia, diciamo che per me è lì. È lì. Però, certo che a scartare, secondo me, è più bravo Leao. Come fisico, dico, Barascheglia. Però, diciamo che sono due giocatori veramente forti. Bene, ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate like. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Sempre e solo. Forza Inter. E noi ci vediamo al prossimo video.